Salve a tutti, questo è Chance, ci troviamo a Sarzana in piazza San Giorgio al numero 33. Chance è un negozio di decorazione per la casa e la festa. Ci occupiamo di decorazioni ed interni, complementi d'arredo, tessile per quanto riguarda la casa e il giardino. Per quanto riguarda la festa andiamo dal compleanno alla cerimonia all'evento privato o aziendale. Nello specifico per quanto riguarda gli eventi siamo adesso nel periodo dei matrimoni e delle comunioni. Possiamo offrirvi qualunque tipo di servizio da tutto quello che riguarda il mondo dei fiori e abbiamo qui l'artista Giulia che si occupa dei decori floreali, dei mazzi di fiori anche adesso nei prossimi giorni che abbiamo la festa della donna. Ciao, sono Giulia, sono fiorista, vi posso offrire il nostro servizio tutto dopo un floreale, matrimoni, chiese, battesimi. Vi posso fare qualsiasi composizione immaginabile possibile. Noi troverete poi un vostro assortimento di bomboniere, che comunque io nasco come bombonieraia perché la verità ho iniziato esattamente nel 1994, ho lavorato in diversi negozi. In questo negozio in particolare cerchiamo di offrire un prodotto diverso dal classico. Tutti i prodotti artigianali creati da noi o in tessuto, in latta o in vetro per il vostro momento importante da ricordare. Siamo su Facebook e su Instagram. C'è il sito che è www.chancewedding.it Domenica, in occasione della festa della donna, oltre a regalare un omaggio floreale o un oggettino che potete acquistare qui da noi in negozio, potete fare un videomessaggio con la collaborazione di Spezia Web TV. Domenica, dalle ore 11 alle ore 12.30. Vi aspettiamo numerosi. Un'idea originale per festeggiare l'8 marzo. Grazie.